Allora, che c'è? L'abbiamo ordini? Quasi Quasi? Va bene, senti, possiamo lasciar perdere Isaac per un minuto? Owen, da quattro mesi fa? Ma l'ha già messo in cinta la tuta con me Sì, scuoti Davvero, c'era bisogno? Secondo me no Però, grazie Ah, sì, quindi vive già con Mel Di solito sì, sai, lei sa essere molto dolce Un sollievo dopo di me Beh, sotto quell'apparenza da dura Hai un cuore tenero Che pessima memoria Selettiva, direi Allora Un momento Stai disegnando sul muralis di Max Lo abbellisco Sei migliorato da quando coprivi i simboli delle luci Oh, il mese scorso si è unita a un'altra luce Ex-luce Beh, aveva sentito parlare di un incontro a Santa Barbara E ci sono prove dal supporto di ciò? No Ma come? Abigail Che stai facendo? Sai che nessun altro mi chiama così, vero? Ha iniziato a tirare con l'arco Non direi Beh, insomma Ma? Scusa? Molto Tropicale Dove l'hai trovato? Ricordi il negozio di articoli da testa? Non è stato per niente facile portarlo fino a qui Edby, torna giù Perché? Nascondi qualcosa? No, ma il piano di sotto può regalarti altre sorprese Andiamo Ok Si è messo a distillare la birra Sembra Complicato Non toccare Abigail È un esperimento scientifico Più o meno Distillo alcol di prima qualità Puoi averlo Se fai la brava Che privilegio Oh, eeeh Cioè Che meraviglia Ah Un'arco biolo Ora capisco il bersaglio Beh, sai Io e Mel ci siamo inventati una specie di sfida Ma Dubito che possa piacerti È Piuttosto complicata Mi vuoi provocare? Ha funzionato Cosa faccio? Ok Vedi i bersagli? Si Colpisci ne più che puoi nel tempo limite Se vinco Voglio il mio nome in vista Ci sto Che palle Tranquillo No Uno in meno Sono fiero di te Meno due È ancora lunga Buon per te Ma quante frecce ho? Se solo ti vedesse Isaac Accidenti Cinque Ancora due Tranquilla Sento Quasi un moto D'orgoglio Perché ci stanno? No Te ne manca solo uno Non Sbagliare E dov'è? Mancano dieci secondi No Dov'è? Dov'è? Cinque Quattro Quattro Tre Due Uno Era là sopra Al primo colpo Era là sopra Che ne dici ora? Sì Grande Quanto sono accecato Sta zitto e scrivi il mio nome Lo farò Dopo Non vuoi che Mel sappia che sono stata qui? No Non le importa Allora segnami sulla lavagna Owen Scusa Ok Ti cancella prima che torni Fatto dieci Ok Voglio farti vedere un'altra cosa Ok Ora posso salire? Sì È il cadavere del capitano? No L'ho visto la volta scorsa Volevo riprovare Gli hai messo il cappello da Babbo Natale Dai Cosa? No Cioè non è male come idea Ma questa è meglio Andiamo Volevo ho fatto dieci Dai Alla fine Non mi ho accecato Non ho visto quel Non ho visto il Quello sullo scuolo Che era il primo da vedere Wow complimenti Che lusso E non hai ancora visto niente Accomodati Goditi il panorama Ma io voglio godermi te Prendi Assaggia Allora? Il panorama è bello Ah Grazie tanto Per lei porci Volevi una bugia? Sì Ovviamente Lei va matta Per il Natale Ed è Il nostro anniversario Quindi Lo trovo adorabile Trova il modo Di andare a fare il culo No vorrei Qualcuno che mi ami Tanto da farmi un calzino Ma tu non te lo meriti Cosa il calzino O qualcuno che mi ami Oh madonna Il calzino Stavate parlando di calzino Che io Mamma mia Un buon umore Salve all'addestramento oggi È me Al chiaro di lui Ho trovato il fratello di Joel Vive in una colonia Vive in una colonia in Wyoming E lo incontrassi E lo incontrassi Potrebbe non sapere dov'è Joel Giusto? L'hai detto agli altri Sono tutti d'accordo Mel compresa Possiamo partire in settimana Isaac non darà il permesso Sono troppe persone L'ha già dato Cazzate Chi crede più di Isaac Nella giustizia E sa cosa ha fatto Joel Ehi Ciccio pasticcio O insieme o niente Giusto? Certo E qui parte dopo la spedizione Per andare da Joel E ecc Ok Piove per caso? Non lo notavo Non lo notavo Questa è ancora Lo incontrassi Molto Per ottenere Se une Con due Con due Seria non sto perdendo un po le linee temporali e loro si annida il peccato liberali perché possano conoscere il mio chiara Dov'è l'altra apostata? Spezzatele le ali No, 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 no Non c'è bisogno, non c'è bisogno Non c'è bisogno, no Tieni Non c'è bisogno Eh, però, eh, hai perso l'unica cosa che ti sostiene Ahia Che situazione di merda Che cosa sta succedendo, ragazzi? Questa pia era la cosa del trailer, secondo me Se non mi ricordo male C'era sta scena Trailer barra gameplay Barra non so cosa hanno fatto loro Prima dell'uscita del gioco Ma con demoni intende i... Gli inferti Ha solo il martello? Ma bambino di merda Ma con una mano Ma perché buccia da solo con me? Ma dove fa un morto? No, 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 niente arma, niente arma Ma che cosa è di qua? Sì, sì! Non c'è il cimno. Ma non c'è il cimno, quanto è volente. Mi muoviamoci prima che ne arrivino altri. Mi ho sbagliato a lanciare la... Sappiamo dove stiamo andando. Per risiedere. Per rispondere cosa sto facendo. Deve essere di qua non mi piace molto come risposta. Di qua! Di qua! E' recente. Non c'è un'altra storia. Se ci fosse pensi che saremmo qui. Io ringrazio il bambino che ha le frecce infinite. Abri! Forza! Su, vieni! Tu... hai il mio zaino! Ma sei quella dell'orecchio? No! Ma tu! Bambino di merda! Ma usala quella cazzoria! C'è su Cri... Ma no! Ma no! Ma no! Sono fuorimazzate! Ho fatto! Voi state bene! Ah... Sì! E' vero? Io avevo potenziato tutte le mie armi! Scusami! Cioè tutte! Avevo potenziato il fucile! Ce l'ho di nuovo! Ah! Posso metterlo automatico? Ok! Ok! Questo lo pigliamo! Dietro non si può tornare perché c'è la natura per terra! Figurati! Figurati proprio! Direi che... Comunque direi che sono le mani e... Chiudiamo qui la faccenda! Come va il braccio? Per ora resisto! Ok! Prendete tutto ciò che trovate! Non possiamo! Sono oggetti del vecchio mondo! Ma che... Ci servono provviste! Finché siamo imboscati qui! Il doppio senso era voluto! Cos'è un doppio senso? Vabbè dai! Eeeh... Mai viste le iene ammazzarsi tra loro? Serafiti! Che diavolo hai fatto? Ho rasato la testa! Risparmia i miei dettagli! Preferisco non sapere! Ok? Comunque! Ragazzoli! Io vi saluto! Vi ringrazio! Il video è venuto abbastanza lungo! Direi che farò due episodi! Comunque sia! Grazie mille per avermi seguito fino a qui! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!